Ho un killer alle calcagna. Ero costretta a rivivere lo stesso giorno in continuazione. Questa volta è tutto diverso. Sicura di stare bene? Se chiudi il loop e non li aiutiamo, sono morti per sempre, giusto? Dovrò morire in continuazione per salvarvi tutti. Sì. Go, Shaori. Chi sei? Mi sono rotta di questa stronti. Ancora auguri per la tua morte? Grazie.